Promozione e sicuramente un buon pomeriggio per Peppino Baldassare. Ciao Peppino. Salve. Te lo aspettavi? Mi aspettavo di battere il Lanciano, sì, mi aspettavo anche di scavalcarlo ovviamente. Non sapevo se il Foggia sarebbe riuscito nell'impresa, perché questa è una squadra molto discontinua, però questa era la partita chiave. Era la partita chiave perché io ricordo un altro 16 gennaio, quello dell'anno 2000, quando il Foggia di Braglia perse a Gela, veniva da una serie di vittorie consecutive e poi cominciò a prendere quello che a Foggia noi chiamiamo Uc Pabbascio. Per carità quel Foggia arrivò poi quarto, fece il playoff ma fu eliminato in semifinale per il discorso che avendo vinto 2-0 qui con la Cireale, avendo perso 2-0 in Sicilia, la quarta contro la terza veniva fatta fuori. Io invece credo che questo 16 gennaio possa essere propizio per un'inversione di rotta per questa squadra, perché pare che atleticamente stanno bene, tecnicamente cominciano a valere qualcosa. Zeman ironicamente si è detto più preoccupato del fatto che è quinto in classifica, il campionato sta entrando nella fase cruciale. Per carità è vero Foggia in zona promozione, Foggia quinto, però ricordiamo anche che la quarta e la quinta hanno pochissimi punti, quindi forse quest'anno con poco più di 50 punti si può arrivare al quinto posto. Le altre due che al momento sono nei playoff, che sono il Benevento e l'Azletico Roma, che è seconda, hanno molti più punti. Però il livello nostro è quello tra il quinto e il nono posto, in questo momento siamo quinti, se non riusciremo a migliorare, speriamo almeno di mantenere questa quinta posizione. Le premesse ci sono per far bene, certo bisogna essere continui e bisogna aver terminato il sacco di regali da distribuire alle altre squadre. Presi anche, non dall'entusiasmo che mi sembra anche eccessivo, però siamo contenti. Bene che hanno fatto un partito da un'eis. E' entusiasmo, perché siamo sempre quelli che hanno perso col Siracusa, però ieri un Foggia ha fatto lo partito. Mi piace Peppino quando poi si esprime così. Poi bisogna pane e pane e vino al vino. E voglio dire, lui è estremista, da un lato e dall'altro, nel senso che quando il Foggia perde, è depresso, quando il Foggia vince e convince come ha fatto ieri, insomma, è difficile tenerlo con i piedi per terra. Beh, quando si esprime così il Foggia, non ce n'è per nessuno, Peppino. Non ce n'è e non ce ne sarà per nessuno, qualora dovesse ripetersi il Foggia. Non è facile ripetersi, però possiamo anche dire che ieri il Foggia ha affrontato una squadra gagliarda e anche, tra virgolette, tosta, come quella del Lanciano. Quindi non è che ha vinto contro la Cenerentola del Girone. Ha vinto e si è dovuto impegnare parecchio. Ma ha vinto bene perché ha corso più del Lanciano, perché il Lanciano spesso ha corso a vuoto, perché nella coralità dell'azione il Foggia è stato impeccabile. E' chiaro, c'è da rivedere qualcosa sulle palle inattive passive, insomma, oltre a subire due reti, il Foggia ha rischiato in qualche circostanza. Ma una delle cose più belle, più che le sovrapposizioni sulle fasce che conosciamo dai tempi della prima edizione di Zemanlandia, la cosa più bella è che quando si voleva allargare il gioco sulla fascia c'era sempre un giocatore del Foggia pronto a ricevere, anche in orizzontale, non solo in verticale, il pallone. Quindi il Lanciano si è trovato del tutto impreparato a contrastare questa onda d'urto del Foggia, che già sullo 0-0 avrebbe meritato di sbloccare il risultato. Poi è arrivato quel gol di Insigne, fotocopia della prima rete realizzata contro la Cavese, ma lui sa segnare solo così, voglio dire, non è un limite per carità, anzi è un grande pregio che fa questi gol alla del Piero, poi magari sulla linea di porta non c'era inferiore sbaglia, o peggio ancora sbaglia dal dischetto, perché in questo momento Ciofani dell'Atletico Roma è capocannoniere, con 12 o 13 reti, ora Massimo controlla 12 reti, ma è meglio avere due giocatori a 11 gol fatti, che non uno capocannoniere a 12, quindi almeno nella classifica canonieri è meglio come stiamo messi noi, con due secondi posti. Perché l'altro è Franchini che ne ha 6, quindi insieme ne fanno 18. Sì, e Insigne purtroppo chi è causa del suo mal pianga se stesso, se fosse stato bravo a realizzare anche i rigori che ha tirato sarebbe ora il capocannoniere del campionato. Fatto l'elogio ad Insigne, dobbiamo elogiare anche gli altri componenti del tridente, a cominciare da Sau, che oltre a segnare poco prima della rete aveva sciuppato due opportunità, sulla prima veramente non c'è nulla da imputargli perché è stato bravo il portiere a intuire il tutto, sulla seconda non aver centrato lo specchio della porta, ecco per un attaccante il primo a ramaricarsi è proprio lo stesso attaccante, ma pochi minuti dopo ha accompagnato in rete una perfetta assistenza di Farias, poi ha fornito anche egli l'assistenza ad Insigne in occasione della quarta marcatura, ma soprattutto ha rubato un sacco di palloni, ha lottato, è stato veramente un giocatore completo. E Farias abbiamo visto in questo momento, la sorella che la stiamo rivedendo, vedete questo tiro da fuori aria che va sotto la traversa e da appunto un riporto il foglio in vantaggio, questo è stato forse il gol più importante dei cinque, quello che ha ridato il vantaggio a quella squadra che una volta su 1-0 si era fatta rimontare, questa è l'assistenza di Farias a Saudi. Ecco, va detto che proprio in questo momento tutti in piedi, applausi, cori, e si sono sentiti anche vecchi cori che già vent'anni fa... Mi diverto solo se, Zeman, Zeman, certo, certo, quando la curva ha chiamato tutto lo stadio, e appunto tutto lo stadio poi ha cantato, quindi c'erano ancora molte assenze tra gli spettatori, per carità, giusto così, dopo il 4-2 di Lucca la squadra non meritava che la gente venisse, però io mi auguro che se il foglio dovesse far risultato a Foligno ci sia il pienone poi contro il Barletta, perché questa squadra, sì, adesso è arrivata con le sue forze al quinto posto, ma ha bisogno anche della forza del pubblico per difendere questa quinta posizione, ma è chiaro che bisogna tornare da Foligno ancora quindi, perché se a Foligno cominciamo di nuovo a regalare la partita all'avversario, allora è chiaro che la gente è colta dalla sfiducia, e quindi preferisce restare a casa, specialmente nelle domeniche invernali. Quindi dicevamo di questa gara, Farias è stato meraviglioso, in questo momento a Gordirin e Varga messi insieme non fanno un Farias, ma mi riferisco al Farias di ieri, poi bisogna vedere, non abbiamo potuto giudicare Farias in 45 minuti al Lucca, figuriamoci se lo possiamo fare dopo una sola gara, ma ieri ha disputato una gara perfetta anche lui. Lo stesso centrocampo del Foggia è stato ben orchestrato da Salamon, anche qui Salamon, lo stesso Burrai quando è entrato, sono nella loro discontinuità, è tutto il cuore, il nocciolo della questione, del Foggia di quest'anno, perché quando il Foggia gioca bene, perché è ben orchestrato anche dal mediano, in questo caso era Salamon il titolare ieri, che è stato impeccabile, così come è stato impeccabile Burrai, allora quando è entrato sul terreno di gioco.